Nel ventunesimo secolo sembra ritornare viva l'esigenza di una Gorà concreta, che affianchi le piazze virtuali dei numerosi social network presenti su internet. La casa editrice La Terza ha provato a farsi interpretare di questa richiesta con l'iniziativa Gorà Scuola Aperta. Il senso di Gorà Scuola Aperta è di fare delle scuole compiutamente dei luoghi pubblici, cioè dei luoghi dove i cittadini di ogni età si ritrovano per discutere dei temi importanti, per apprendere, per conoscere, incontrare personaggi della vita pubblica, non solo studiosi ma giornalisti, scrittori, protagonisti dei vari campi, della musica, dello spettacolo e poter insieme condividere la cultura. Sono state coinvolte scuole su tutto il territorio nazionale, è il primo appuntamento del nuovo anno, in Puglia, e al liceo Orazio Flacco di Bari. Il tema del confronto tra città antica e città moderna viene affrontato sapientemente grazie al concorso dell'archeologia e dell'architettura urbanistica, nella particolare congiuntura data dal bicentenario della fondazione del borgo murattiano, a seguito del piano di Giuseppe Gimma. Educational Web TV ha apprezzato l'attenzione critica con cui i giovani guardano alla propria città, richiedendo sempre più spazi di confronto culturale fuori e dentro la scuola. Abbiamo fatto incontri che riguardano il cambiamento della città. Confrontarsi con una Gorà qui a scuola significa riflettere anche sul senso degli spazi di cui possiamo fruire a Bari. E se siano effettivamente presenti degli spazi di comunicazione, di scambio di pensieri e di cultura.